Ok ragazzi, faccio vedere un effetto che è realmente credo sia un effetto impressionante, non sto scherzando, chi vuole mi contatta in vendita, una mia creazione, mazzo di carte regolari, testimone, tutte le carte regolari, mazzo di carte di mio padre, come ve lo dico subito, non c'è un limite toccato in me, prima di tutto mescolare le carte, io volerò sempre voi, non vuoi sapere niente, sta mescolando le carte, non mescolare un spettatore normale, quindi miscuglie il germino libero, mia mamma mescola come sa mescolare, potete mescolare come volete, sta mescolando, altra cosa importante, ora vai con le mani sotto il tavolo e non prendere la prima ma la seconda carta, quindi è incredibile la cosa, la metti qui e metti la mano subito sopra, la guardi e metti la mano sopra, fatto? Aspetta che la guardi, si. Messa la mano sopra, si, ok, io non posso apprendere da un mazzo mescolato ragazzi di carte, questo è importante, io credo sia rossa di cuore, si, una figura, si, tutto mescolato ragazzi, tutto mescolato, la tua carta non è la donna di cuore, non è neanche il re di cuore, no, è il jack di cuore, si, il jack di cuore, si, il jack di cuore, si, il jack di cuore, grazie.